Ciao Alissa! Ciao! E ciao ragazzi! Oggi facciamo questo video per farvi vedere delle novità che sono appena arrivate su Yo-Yo Busy Life World Molto interessanti Già possiamo vedere da questo angolino infatti che ci sono dei regali gratuiti a tema... Harry Potter! E andiamo a vedere di che si tratta, vai, cliccalo, cliccalo Vediamo che cosa ci aspetta Oh ci sarà, oh aspettate non vediamo, non vediamo, c'è un baule con dentro delle cose E in più ragazzi se acquistate o avete già acquistato la scuola avremo in omaggio dei nuovi completi Queste divise scolastiche sono una novità che è stata appena introdotta per appunto chi prenderà lo scenario della scuola Noi ce l'abbiamo già e quindi li abbiamo già bloccati Tra l'altro lo scenario della scuola è carinissimo e sarà proprio lì ambientato il nostro video di oggi Anzi la nostra storia perché sarà una piccola storia But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay 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 dead and Ma non posso certo andarci vestita così. Hai ragione. Ci vuole un bel cambio look. Bene Elissa, siamo arrivate a scuola. Allora tu vai in classe, mi raccomando, comportati bene e prendi bei voti. Io invece andrò un attimo di qua al laboratorio d'arte. Mi hanno chiamato per tenere un corso. Sai, mi piace disegnare. Va bene, va bene. Allora ci vediamo dopo. Ciao mamma. Ciao. Prima di andare in classe voglio darmi una sistemata. Ah, ci voleva. Uh, e questi cosa sono? Che carino. Adesso ci gioco un po'. Ciao, io sono l'occhialuto. Io sono un mostro verde. Adesso dobbiamo combattere. Va bene, dai vado in classe. Uh, la ciambella. Buona. Popcorn. Buoni. Adesso vado veramente in classe. Eccomi qua. Elissa, sei di nuovo in ritardo. Ops, non mi ero accorta dell'orario. Ancora perdi tempo? Non si beve in classe. Alissa, ti devo bocciare? No, no, no. Giuro, giuro, non lo faccio più. Ora mi comporto bene. Vedremo. Bene, iniziamo la lezione allora. Maestra, prima di iniziare posso fare una domanda? Va bene, dimmi pure. Ecco, ma qualcuno può essere punito per qualcosa che non ha fatto? Ma no, certo che no, Alissa. Meno male. Perché? Perché non ho fatto i compiti. Eh? Vabbè, inizio a spiegare. Alissa! Non puoi dormire in classe! Lo so. Ma se lei parlasse un po' più piano, forse potrei. Ah! Senti, adesso per punizione devi scrivere 50 volte sul foglio Non devo dormire in classe! Va bene. Ecco fatto! Ma l'hai scritto soltanto 5 volte! Vabbè, ho fatto il riassunto! Rispondi correttamente a questa domanda. Io studio, tu studi, egli studia. Che tempo è? È tempo perso, maestra. Il mio è tempo perso con te! E va bene, dai. Prendi il libro di matematica, andiamo un po' avanti col programma. Ops. Eh, non ce l'ho, maestra. E perché? Dov'è? L'ho portato dal dottore. E perché? Eh, aveva troppi problemi. Basta, 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 non ne posso più! Vai via, vai a casa! Oggi non voglio più vederti! Uh, che bello! Uscita prima da scuola? Oggi è il mio giorno fortunato. Bene, per oggi è tutto. Vediamo un po' se Alissa ha finito. Ah, eccoti Alissa! Io per oggi ho finito, tu? Anch'io! E ho una notizia buona e una cattiva. Beh, iniziamo da quella buona. La notizia buona è che oggi ho preso dieci. Bravissima! E quella cattiva? Quella cattiva è che non è vero. Ah. Beh, ragazzi, per fortuna Alissa a scuola non è realmente così. Ma speriamo che questo video vi abbia divertito. Per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video, magari sempre qui, su Yo-Yo Busy Life World. Ciao! Ma ora me lo merita uno snack? Non credo proprio, andiamo a casa. Ah, volevo il cioccolato. E così anche questo video è finito. Come abbiamo detto, per fortuna Alissa nella realtà non va così male a scuola. Anche se non è che ami proprio tantissimo fare i conti, vero? E invece no. Guarda un po', ti tocca proprio fare le divisioni. Mamma mia, non ci capisco niente. Perché io? Su questo ti devi far aiutare da papà. Vabbè, ragazzi, io lascio Alissa a fare i compiti e se finirà in tempo potrei farti un'altra bella partita su Yo-Yo Busy Life World. Sì. Ciao! 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 Ciao!